io volevo vedermi io mi volevo vedere un video vintage ma che vi una challenge di illuminati sumo beach volley challenge gaza bello bello chi erano speciale mione di vegas oh mi cazzu lul giacomo dai gli rubammo tutti gli rubammo tutti gli spettatori da gott dai è giusto fargli vedersi un video di vegas con tutti quanti greta scicolari giocatore sima di greta non può giocare così deve giocare anche questo video è una manata ma che vince lo sto vedendo scusate ma chi è questo chi è è stepney madonna ragazzi ma ma c'è jetter mine ma che so ma raga ma che è ignorante e desilarante ma chi l'ha editato sto video speciale milione e come promesso vi ho portato una nuova challenge ho divisi ah ma è vero ma non ce stai streaming su discord ma dimmelo carlaschio sto aspettando che te ne rendessi conto per capire non me ne sarei mai reso conto probabilmente con me però ci sono due giocatrici professioniste di picciole abbiamo greta e alice e logicamente non giocherò solo io contro sembra cristina ok anima stepney favij suuri e claus tu era un uomo barbuto ciao fa caldo papà anche a gennaio farebbe caldo logicamente creeremo due squadre in una ci sarà greta e in una ci sarà lice cercheremo quanto volevo fare anche una roba di sumo al tempo direi di andare a far ridere fa troppo ridersi guardali che ciccioni dai io voglio stare in panchina io non voglio stare con fuori oh buttiamole giù 7 8 eh solo madonna ma ragazzi ma su real power aveva un attaccatura di capelli incredibile guardala eh frate dai non sto capendo la color correction dell'edit sembra tutto tipo è un gioco no aspetta la casava sull'edito ma è strano sembra una cartina in realtà io sono campione nazionale ragazzi io direi di andare al video e noi prendiamo anche due ragazze siii ho visto ora il bavaglino di stepney e adesso i nostri ragazzi invece da che erano dei promettenti youtuber si ritrova costretto a fare dei concerti di musica tecno dove chi lo ascolta in realtà è solo strafatto di cocaina il ragazzo dopo svariati tentativi di sembrare un old money guy decide di darsi al nulla cosmico abbiamo perso le tracce se non per i nuovi video di minecraft questo si è dimenticato come si fanno i video dirige una delle più temibili case network antipagamenti di vita si scherza papà si scherza anzi quando vengo a milano subito un caffettino in uomo gli ho chiesto dopo che l'ho visto per strada che ore fossero mi ha risposto si oggi ho comprato tre bitcoin su binance dopo lo scandalo dell'evasione fiscale si è dato alla droga e adesso abbiamo perso le sue tracce l'unica cosa che sappiamo è che ha scoperto la f***a con Tettone e adesso Lucy Lane è una donna più felice come stanno qui insieme? no ma che dici? lo giuro ah non lo sapevo ecco forse perché in quattro mesi ha fatto una stream su Twitch siamo nel campo siamo 4 contro 4 so che è ficciola il gioco di due però le regole per noi non valgono abbiamo Greta nella nostra squadra e ti lascia Alice battiamo noi non ti gioca aiuto guarda i disegni del costume di Stepney papà eh raga fai un saluto di squadra ti volete ragazzi ti passo di bella battuta te anima io non so a volte come batti a palla a volo frate bene così io sono il coglione tu fai così io sono la ciolla io così batto ancora più sì più sì sono la ciolla ma non ci sarà uno scambio immagino mi sa de no bro oh bello mamma mia Stepney che vomito ti confio la forza oscura è con me cosa è forza oscura lui è calcato oscura sono le mani ma non le sa ma non le sa ma non le ha punta 10 c'è devi passarla eh bello bellissimo grazie oddio ma che fa questo clown come si travesse da questo momento papa vegas cambiò la sua voce ottenne due decibelli meno brun l'ha scrivato qui mi sa che è il momento esatto il canon event dove ha deciso di fare il manager e non più i video sul campo beh sì ma ti toccherebbe ringraziarlo allora muori mi ha tirato la pizza ma è il tipo di poco ha preso che ho scoperto la vicina ha fatto solo la voce bella bella oddio che bel bag ma ragazzi ma questa si sta a giocare chiavi di casa ma Surry che cazzo di bagheria ha fatto ma Surry che ha preso la rosa rolling thunder ammazza Surry che numero non distratemi ma Surry un fenomeno ma Surry un fenomeno ma Surry non può toccare un pillone ma Surry mi sembra messo a disagio e non vuole fare questa cosa e non sta giocando ma ora la prende ora la prende eccolo eccolo è da più ha fatto così hai ragione hai ragione cosa fa ma è una pippa fa vigile ma perché da dietro sembra Gianco guardalo ci sta bene ben tornato luto grazie per i sub ma è vero qua si vince cazzo in play buona ma tu stai come si batte no oddio questo non ammazza in alto dritto è buono 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 ma con i piedi vale a pallavolo sì 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 mi sembra oddio sai che non mi ricordo se è come vi è attivata non lo so forse in casi di particolare questo botca ben tornato ma c'è che tosto oggi è difficile ma quelli sono allenati ma perché FabiJ ha un braccio dritto per dritto ma chi è un uomo barba che cazzo è botta la tecnica prima del botto ma frate ma c'ha un presidential frate ma che cazzo c'ha ha usato qualche tecnica innovativa non lo so dai ce l'ho io ce l'ho io vai ce l'abbiamo prendiamo va bene il tizio di a cappa informatica ok ragazzi abbiamo cambiato campo siamo pronti a fargli un mazzo come sempre non do la tab eccanista bagno ooooh 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 bello 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 bro se la prendeva avrebbe ottenuto aura però eh eh si al guadagno 72 si si la capo più in testa qui si sveglia qualcosa ma lo so però lì di la caterma di c'è è subito sei forte che l'ha tirata fuori fratello ma guarda che fai l'ha tirata fuori pure vegas eh ma ragazzi ma anima è diventato un ninja ma gli si è sgonfiato il croce tanto prendi la rete prendi ma guarda che aura c'ha anima bro ma è tipo è diventato eh si fu è diventato si no riku riku bro ma che cazzo che è su vadole perché si vedeva già dall'inizio che quello di anima non gonfiava eh eh si ora quando festeggiamo tutti quelli bello che boccia bella che bomba è morto ho ucciso su guarda guarda che obesoni dai era il petto mia 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 perchè hai petto a te scherziamo bravo tu succede sempre questo guarda ma sta diventando mlg pro sta diventando eh ma si ma si ma questo devo guardare un po' le partite di pallavolo femminile che comunque Vegas i sottotitoli a e l'intro che sembrava una roba di real time e poi mettiamo anche un punteggio un punteggio oddio ma cazzo la famiglia che fa il quadrato sotto rete guardiamo burri bello ma che picci dai bello bello oddio favij è benazzo ooooooo ooooo 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 che f***o no è quello di favij è esploso è in mità di si eh è ridiventato ok per gli standard sociali via si via 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 già ti comprivo i vestiti da tumo ma è che ho voglia 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 ma ragazzi ma che cos'è ma hanno fatto 7 passaggi E' un bel po' di... Ma che magia è? Ma che cosa sta a tenere quell'altro? Non sa, sta a tenere di spalla Qui ancora? Eccolo Che roba Bello E' andata in cacciarissimo Sono fondamentale troppi tocchi Mi stanno a casare, fratello Guarda che scambietto Alza Surry, alza Surry Questo bro, questo anche succede sempre Bro, tu non hai capito quante cazzo di volte succede Contro Marco, Evan e Alisora Se stanno in squadra insieme E' pazzesco Corpo vergogna di Surry al power Bazzissimo Piano, salta Piano Oddio Oddio Muro di anima qui Ma guarda Surry al power Ma che... Ma che... Ah, un fenomeno Porco di... E' il filo, mi sa E poi gli fa mossa del ciccione Occhio raga Bro, cioè quando vanno tipo... La palla in gola mi sembra di Jumpy Tech era famosa Quella che la stoppava di gola Non l'ho mai vista Mi prego trovate il video Ma si è fatto male, eh Oddio Doppia schiacciata Ma questa è un l'effetto in doppia Questa è bella Raga, ricordate un l'effetto in più a due Non lo so giocare Balla Vai Balla Intanto non è che se lo disce e arriva di qua Balla Basta Si è rotto il motore Ma non ho mai la capito Ma no E' il filo, la roba Andrà Mi piace, ma ti schiacci Nooo Oh, madonna Cazzisissimo Lorenzo Che cazzo deboli ti ha tirato? Mi vola la scala Mi vola Cosa cazzo faccio? Nooo E' la liga parca Nooo Nooo Ma che cazzo di mossa è Klaus Non so da nulla, va alle retrovie No, no, no Ello 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 Oh Sì Bello Oh Oh Oddio, anima, sei inturbantato anima Ragazzi, ma sono diventati dei fenomeni sono diventati Ragazzi, ma è diventato un Monaco Shaolin Soccer, è diventato Ma che cos'è? No, noi siamo qua Perfetto per il progetto happiness bro Ma dunque Ma 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 che facevi? Ma che finita qua? E' così, hanno lasciato il stile Allora ragazzi Questo video finisce qua Vabbè ne ho fatto tutto Vittuolo poi nei commenti chi ha vinto Vabbè ragazzi Chiaro, chiaro chi ha vinto Anzi lo sai chi ha vinto? Ha vinto Favijay che è riuscito non se sa come a tenere il costume da sumo gonfiore C'è un po' che sono più politically correct Però lo spettacolo è stato bello, ringrazio Greta e Alice per aver partecipato a questo Bravo Papavegas, speciale un milione poi è morto Grazie per aver guardato il video